Siamo di fronte al più grande parco fotovoltaico della Toscana, esteso 43 ettari con 17 megawatt di potenza e che fornisce energia a 20.000 abitanti circa. Con l'acquisizione del 100% di Cavriglia SPV SPA e del 98% di Tegolaia SPV SPA, Estra diventa proprietaria dell'impianto fotovoltaico pubblico più grande della Toscana, quello appunto di Cavriglia Tegolaia. Ci confermiamo quale multiutilità italiana e si spazia e ci si rafforza sul ramo ambiente, energie rinnovabili, oltre a gas, energia elettrica e TLC. Oltre all'importante valenza energetica l'impianto conta infatti circa 70.000 pannelli per una potenza di 17 megawatt, questo è un esempio anche di buon governo del territorio. Ricordo che qui insisteva una miniera di lignite e poi si è trasformato questo ambiente in una discarica e è bello vederlo recuperato nel segno delle energie rinnovabili. Un'acquisizione strategica per Estra che sta per approdare in borsa. Attraverso l'apertura al capitale privato e ci tengo a precisare la maggioranza resterà pubblica, potremo raccogliere ulteriori sfide e crescere in un mercato che è in continuo movimento a cominciare dalle prossime gare sulla distribuzione del gas. Operazioni come quella di Cavriglia e Tegolaia rafforzano l'azienda anche in vista della quotazione perché sono infrastrutture, sono asset che acquisiamo e che lo portiamo a valore in un bilancio consolidato sempre più forte.